Il sudore non puzza. Come dite? Sì, lo so, lo so, adesso state pensando che questa è l'ennesima provocazione perché voglio vendere il mio libro. No, cioè sì, il mio libro lo voglio vendere però non è una provocazione perché è vero che il sudore non puzza. Quando esce dalle ghiandole sudoripere è inodore. Ma allora che cos'è quella puzza che più o meno volontariamente sentiamo quando annusiamo una scella? Allora è effettivamente una puzza, quindi non è un'invenzione, non è che noi la sentiamo nella nostra testa, la sentiamo davvero. È collegata in qualche modo al sudore anche se non è propriamente del sudore. Andiamo con ordine. Ciao a tutti, io sono Beatrice Mautino e in questi video parliamo di cosmetici e non solo visti con gli occhi della scienza. In uno dei miei video precedenti vi ho parlato di antitraspiranti, cioè di quei prodotti generalmente a base di sali di alluminio che agiscono tappando parzialmente i dotti dai quali fuoriesce il sudore e quindi riducono la sudorazione. Vi avevo anche detto in quel video che il sudore, per come lo conosciamo noi, è composto da due parti distinte. Da una parte c'è il liquido su cui agiscono appunto gli antitraspiranti. Dall'altra c'è la puzza sulla quale agiscono i deodoranti, quelli propriamente detti. La puzza è prodotta dai microorganismi che vivono sulla superficie della nostra pelle e in particolare sotto le ascelle che mangiano il sudore e producono degli scarti puzzolenti. Questi batteri possono essere diversi da individuo a individuo e cambiano anche nel corso delle diverse fasi della vita. Questo è il motivo per cui ci sono persone che puzzano molto e persone che puzzano poco o persone che in certi periodi puzzano un po' di più del solito. Ok, ci sono i batteri, però voi mi potete dire ma a noi che cosa ce ne importa? Alla fine a noi ci interessa non sudare oppure non puzzare oppure entrambe le cose. Vero, però conoscere un fenomeno permette di imparare a gestirlo. Se nel caso degli antitraspiranti la strategia è sostanzialmente una, cioè usare i sali metallici e in particolare i sali di alluminio per creare quel tappo gelatinoso che riduce la fuoriuscita di liquido, nel caso della puzza le cose cambiano e le strategie sono abbastanza diversificate. Partiamo dai nostri ospiti, cioè i batteri. Ne abbiamo sostanzialmente di due tipi, i corinebatteri, tra cui il più famoso è il corinebacterium e le micrococcacee, tra cui il più noto è lo Staphylococcus epidermidis. Quella che vive nelle nostre ascelle è una popolazione piuttosto stabile di batteri, ovviamente una popolazione mista che come dicevo prima può cambiare da individuo ad individuo e che ha alcune caratteristiche però che sono abbastanza comuni. Per esempio mantiene un pH di quella zona lì della pelle un po' più alcalino del solito, la nostra pelle ha un pH acido di circa 5, poi cambia nei vari distretti, nell'ascelle è un po' più alto quindi è un po' meno acido e in questo microambiente nel quale ci sono i batteri, c'è il sudore, ci sono i peli, insomma lì sotto l'ascelle si creano questi depositi di scarti prodotti dai batteri dopo aver mangiato appunto il sudore. Tra l'altro sta diventando una specie di crossover con scienza brutta. Ciao barba scura. Tra questi scarti il più importante, il principale responsabile della puzza che sentiamo è l'acido 3-metil-2-esenoico. Non è il solo, ovviamente ce ne sono molti altri e anche noi possiamo metterci del nostro, soprattutto con una sottocategoria del sudore chiamato sudore apocrino che viene rilasciato appunto dalle ghiandole apocrine che, a differenza del sudore classico, che è appunto in odore, in questo caso in quel sudore lì specifico ci possono essere alcune molecole che hanno un loro odore caratteristico oppure che mangiate dai batteri producono un odore caratteristico, dove caratteristico è un eufemismo. Questo tipo di sudore risente molto degli sbalzi ormonali e in generale dei livelli di ormoni, motivo per cui in certi periodi come per esempio nell'adolescenza si tende a puzzare un po' di più. Comunque per far fronte agli odori si possono usare strategie diverse, dicevo prima nel mio libro La scienza dei cosmetici le affronto tutte in maniera abbastanza approfondita. Le vediamo anche qui e possiamo immaginarle un po' come dei livelli del videogioco, dove si va sempre un po' più sul complicato. Si parte con la cosa più semplice che è coprire gli odori con un altro odore, si sale poi a tecniche che prevedono di neutralizzare oppure annientare in qualche modo l'odore per poi arrivare all'ultimo livello che è quello dello sterminio dei batteri. Vediamole brevemente e poi vi rimando per gli approfondimenti, indovinate, al libro nuovo. Ve l'ho già detto che ho scritto un libro nuovo? Vabbè adesso la pianto qui. Comunque la prima, coprire gli odori. Questa è la strategia più antica, dall'incenso che veniva usato per profumare, mettiamola così, gli ambienti, le chiese e situazioni in cui c'era umanità varia e consiste sostanzialmente, come dicevo prima, nel coprire l'odore di sudore con un altro odore che sia in grado di fondersi con l'odore caratteristico della pelle e quindi coprire in qualche modo la puzza. L'azione di queste sostanze, che sono sostanzialmente dei profumi, si svolge principalmente in due fasi. La prima, che viene chiamata di testa, è quella che sentiamo subito, è fatta dalle sostanze più volatili, quelle che arrivano prima al nostro naso e in genere nei deodoranti associata a un profumo di fresco. Man mano che passa il tempo dovrebbe rimanere sulla pelle la componente di coda, quindi quella fatta dalle sostanze meno volatili che si depositano lì e che lasciano un profumo più duraturo. Ovviamente questa strategia funziona più o meno, come abbiamo tutti credo avuto esperienza su un autobus affollato a luglio. La seconda strategia consiste nel neutralizzare gli odori e questa parte piacerà a tutte quelle persone, tantissime, che sotto al video degli antitraspiranti mi hanno scritto ma io uso il bicarbonato e va benissimo. Bravi, bene, bravi che usate il bicarbonato, però il bicarbonato non riduce la quantità di sudore. Può però intervenire sulla puzza, perché? Perché questa sostanza chimica, ricordiamo che il bicarbonato è una sostanza chimica che viene prodotta dentro a degli stabilimenti industriali giganteschi tipo questi, dicevo che questa sostanza chimica ha un pH alcalino, quindi basico per dirla come la dicono i chimici, ed è in grado di neutralizzare gli odori che derivano da acidi, banalmente perché neutralizza gli acidi. L'acido 3-metil-2-esenoico è, come dice il nome, un acido e quindi il bicarbonato può in qualche modo neutralizzare quel tipo di puzza lì. Questo è il motivo per cui in alcuni deodoranti lo trovate tra gli ingredienti, se leggete dietro nell'etichetta. Sull'idea di farsi deodorante in casa, prendendo il bicarbonato, impastandolo, magari mettendogli dentro gli essenziali e altre cose, io alzo le mani. Se vi trovate bene a far queste cose, fatele, tenete però a mente che il bicarbonato, avendo un pH alcalino, può provocare delle irritazioni alla pelle, quindi occhio! Sugli oli essenziali aprirei una parentesi gigantesca, ma magari ci facciamo poi un video, perché lì i problemi possono essere ben più seri di una semplice irritazione, ma magari ne parliamo poi un'altra volta. Terza strategia, deodorare. Uno dice, vabbè, ma i deodoranti deodorano? No, perché questa strategia è particolare ed è una specie di trucco, un inganno, mettiamola così. Gli odori arrivano al nostro naso perché sono fatti di sostanze volatili che evaporano dalla nostra pelle e raggiungono i nostri recettori olfattivi presenti appunto all'interno delle cavità nasali e poi dai recettori olfattivi mandano i segnali all'interno del cervello che vengono decodificati. Quindi un modo per interferire con questo sistema qual è? Beh, quello di non far evaporare gli odori, cioè tenerli lì, tenerli lì sulla pelle. In questo modo se non evaporano non raggiungono i nostri recettori che poi non attivano i circuiti cerebrali e quindi noi l'odore non lo sentiamo. Lui c'è, ma noi non lo sentiamo. Già una bella cosa, eh? In molti deodoranti, soprattutto di quelli del settore ecobio, per intenderci, troverete degli ingredienti che hanno proprio questa azione, cioè quindi di buttarsi sulla molecola che puzza e di tenerla giù come se fossero delle zavorre impedendole di evaporare. Tra questi uno dei più diffusi è il ricino oleato di zinco, anche questo se andate a cercare tra gli ingredienti molto probabilmente lo trovate, ma un'azione simile ce l'hanno anche gli ossidi di zinco, calcio, magnesio, che spesso trovate anche qui nei deodoranti un po' più ecobio. Ce n'era uno qualche tempo fa che andava molto di moda, soprattutto su Instagram, e che aveva alcune di queste componenti e quindi questa azione deodorante. Dicevamo che l'ultimo livello è quello dell'eliminazione del problema alla fonte, cioè dei batteri. Rientrano in questa categoria quei prodotti che contengono dei disinfettanti, cioè delle sostanze in grado di uccidere la popolazione, o quantomeno buona parte della popolazione batterica, che vive sopra alle nostre ascelle. L'ingrediente storicamente più utilizzato a questo scopo è l'alcol, l'etanolo, che trovate non per niente in molti dei deodoranti, soprattutto appunto quelli che magari hanno una tradizione un po' più lunga. In anni più recenti si sono utilizzati anche dei disinfettanti di nuova generazione, chiamiamoli così, anche se hanno ormai la loro età pure loro, come per esempio il triclosano. Anche questo vi può capitare di trovarlo nell'elenco degli ingredienti. Queste sono le quattro strategie principali. Ce ne sono poi alcune in via di sviluppo, altre magari un po' più sperimentali. Una che ho raccontato nel mio libro dello scienziato americano George Preti del Monell Chemical Senses Center di Filadelfia, che è un centro specializzato proprio nello studio dei sensi. E questo scienziato ha messo a punto un sistema che va a interferire direttamente con i recettori olfattivi presenti all'interno del nostro naso e quindi in qualche modo li tappa, mettiamola così, e per cui non ci fa sentire la puzza. Per cui la persona puzza, le sostanze volatili appunto vengono rilasciate nell'ambiente e però la presenza di queste sostanze fa sì che le persone intorno non la sentano. Io la trovo una cosa meravigliosa, però è vero che io ho anche fatto un dottorato in neuroscienze sull'olfatto, per cui probabilmente ho una mia definizione di meraviglioso, che è diversa da quella della popolazione generale. C'è poi una strategia che dovrebbe essere messa in atto un po' sempre, in associazione a tutte le altre strategie che ho elencato fino a qui, ed è quella del lavarsi, banalmente del lavarsi. Perché? Perché l'azione del sapone va già a controllare la popolazione batterica presente sulle nostre ascelle. I tensiattivi presenti all'interno dei detergenti sono in grado di distruggere alcune delle membrane dei batteri e quindi di ridurre la carica batterica, chiamiamola così, sotto le nostre ascelle. Per cui lavarsi è comunque un bene. Poi dopo si possono attuare anche tutte le altre strategie. Per oggi la chiudo qui, vi rimando per gli approfondimenti nel libro, come vi dicevo, dove tra l'altro racconto anche di come si fanno i test per poter scrivere sulle confezioni dura fino a 24 ore, oppure fino a 48 ore, e introduco la figura di questi sniffatori professionali, che sono queste persone che di mestiere annusano le ascelle degli altri per poter appunto scrivere queste cose sulle confezioni. Sono storie che fanno rivalutare il proprio lavoro. Vi ringrazio per avermi guardata fino a qui. Vi ricordo che se volete potete condividere questa puntata con le persone che puzzano intorno a voi. Se pensate che i contenuti di questo canale siano interessanti, beh attivate la campanella, seguitemi, insomma fate tutto quello che dovete fare. Alla prossima, ciao!